Ciao amici di MyFootballJersey, continuiamo con le comparazioni questa volta di una squadra dei prossimi mondiali, di una divisa che verrà utilizzata ai prossimi mondiali in Qatar, quella di casa appunto dell'Argentina in versione player che è quella che indosso e in versione fan quella dedicata ai tifosi. Mi raccomando se il video vi piace lasciate un like e continuate a guardare il video fino alla fine per vedere la diversa vestibilità tra le due versioni. Ciao! Come al solito una delle differenze tra la versione fan e la versione player è che nella versione player il logo di adidas e lo stema del club sono termosaldati mentre nella versione fan sono ricamati. Una particolarità di questa versione è che le tre stripes sulle spalle e delle versioni player non sono comunque termosaldate ma sono un motivo cucito. la trama della versione player è molto più particolare, molto più tecnica di quella della versione fan. Cosa ne pensate? Devo dire che questa maglia secondo me è meravigliosa e proprio per questo motivo ho deciso di far la comparazione tra la versione player e la versione fan. Quella che indosso è la versione player che come al solito vi ricordo è studiata per il fisico degli atleti quindi è molto sfiancata di questa dovete prendere una taglia più grande e ribadisco sempre meglio se non avete la pancetta perché questa sennò altrimenti diciamo così vi stringe. Questa invece è la versione fan della stessa maglia. Come vedete non c'è tanta differenza. Come al solito vi dico in questa versione si usano dei materiali un po' meno tecnici e la vestibilità è più comoda. Questa infatti di questa maglia qui io indosso la taglia M che ha la mia taglia normale. Io spero che il video vi sia piaciuto e secondo me questa maglia è stupenda. spero di vedervi in altre recensioni in futuro e vi prego lasciate un like e iscrivetevi al canale per essere aggiornati e farci crescere. Ciao